E' Viraj Prasanna di nazionalità sdrilanchese, il primo cittadino extracomunitario eletto come consigliere aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli. Con 504 voti raccolti per lo più nei seggi della seconda e terza municipalità, Viraj vince sullo sfidante Rajiv del Bangladesh e si farà portavoce nell'aula consigliare delle esigenze delle comunità immigrate presenti sul territorio. Gli auguri vanno ad entrambi, sono entrambi i vincitori morali di questa elezione. Per la verità hanno ottenuto dei risultati elettorali veramente notevoli considerando che sono alla loro prima esperienza politica, però ecco l'augurio e anche quello che tutti noi auspichiamo è che lavoreranno entrambi insieme per la città. E' stata un'elezione estremamente complicata, dapprima lo sbarramento per presentare le candidature perché nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale si richiede che le candidature debbano essere sottoscritte da almeno 100 sottoscrittori. E questo purtroppo non ha consentito a tanti altri che aspiravano a candidarsi di consegnare le candidature. Poi è seguito un mese di campagna elettorale che è stato splendido perché non si sono limitate ad interfacciarsi con le proprie comunità di appartenenza, ma sono andati anche a cercare consenso presso tutte le altre comunità degli extracomunitari, facendo incontri, presentando il proprio programma elettorale. Questo è stato meraviglioso perché per la prima volta in città abbiamo visto delle comunità unirsi e collaborare e credere in un progetto comune che poi è anche il nostro, cioè quello di attuare i principi dello Statuto del Comune di Napoli. Classe 1977, virage in Italia da circa 20 anni. A Napoli sono nati i suoi due figli e debutterà in Consiglio Comunale già dalla prossima seduta con diritto di parola ma senza possibilità di voto. La legge italiana non consente agli extracomunitari di candidarsi o di eleggere i propri rappresentanti nelle istituzioni politiche e quindi questo è paradossale perché parliamo anche di comunità che risiedono sul territorio italiano da 30 anni, da 20 anni. Noi speriamo che il rapporto sia di tipo bilaterale, nel senso che loro ci faranno comprendere meglio in che cosa noi sbagliamo nell'accogliere le comunità, in che cosa possiamo fare di più rispetto a quello che già facciamo e che credo sia notevole. Ma ci aspettiamo anche da loro una risposta molto forte, cioè noi vogliamo che si impegnino al nostro fianco per migliorare questa città.